A nome di tutta la cittadinanza porgo le più sentite condoglianze alla giovane mamma e alla sua famiglia colpiti da una tragedia così grande. Sicuro che la comunità sondriese saprà far sentire la propria vicinanza ad una famiglia così duramente colpita, auspico una partecipazione al dolore composta e rispettosa, così come è sempre avvenuto in occasioni simili. Così recita il comunicato stampa emesso nella mattinata di oggi dall'ufficio segreteria del comune del capoluogo, a firma del primo cittadino Marco Scaramellini. Il riferimento è alla morte della piccola di cinque mesi di genitori nigeriani avvenuta lo scorso sabato a causa di un arresto respiratorio presso il reparto di pronto soccorso dell'ospedale sondriese. Un decesso che porta tristezza nel cuore di noi tutti ma che, nelle ultime ore, sta guadagnando l'attenzione dei media nazionali a causa di un risvolto che, qualora si dimostrasse vero, indicherebbe un livello preoccupante di deriva razzista nella nostra provincia. Sembrerebbe infatti, d'obbligo il condizionale seppure i riscontri confermerebbero la notizia, che nel momento in cui la madre della bimba ha saputo del decesso della propria figlia, ha iniziato a disperarsi, piangendo ed urlando lungo le corsie dell'ospedale. Qualcuno dei presenti nella sala d'aspetto avrebbe inveito contro la donna, appellandola con epiteti quali scimmia, facendo poi con tono sprezzante riferimenti a riti tribali, satanici. Qualcuno sarebbe addirittura stato sentito dire, tanto ne sfornano uno all'anno. L'accaduto tristemente anacronistico e che richiama scenari e allessici da persecuzione razziale, portato alla luce nella serata dello scorso sabato durante la manifestazione delle sardine, in piazza Campello a Sondrio, è stato raccontato da Francesca Guggiatti, una giovane maestra presente nella sala d'attesa del nosocomio. Da lì un tam-tam suonato a volumi sempre più alti, fino a guadagnare l'attenzione di pressoché tutte le testate giornalistiche italiane, a partire da Open, il giornale online di Enrico Mentana, di una parte dell'opinione pubblica presente sui social e di più esponenti della politica italiana. È accaduto che la povertà di sentimenti abbia minato il cuore di colori quali, anziché abbracciare, hanno inveito, hanno offeso la disperazione di una madre davanti alla morte del figlio. Sono triste, ha commentato quanto accaduto l'ex sindaco del capoluogo Alcide Molteni. A noi, spettatori di una tragedia nella tragedia, che associa tristemente la morte di una giovane creatura alla morte della considerazione umana, non rimane che associarci ai tanti, fortunatamente, messaggi di solidarietà espressi sui social, anche quelli della nostra TSN, come a quella solidarietà dimostrata ai genitori della piccola da parte degli infermieri e dei medici dell'ospedale. E fa male vedere Sondrio, la città capoluogo della nostra provincia, che è anche quella delle associazioni, della convivenza, dei sentimenti buoni di una popolazione alpina associata a un episodio così triste. Ma una cosa lasciatecela dire. Una presa di posizione, un atto di condanna ferma da parte delle istituzioni locali, a qualsiasi schieramento politico esse appartengano, nei confronti di chi offende in virtù di una diversità etnica e di cultura, incurante addirittura della morte di una creatura, noi ce la saremmo aspettata. Staremo a vedere.